Grave incidente nella strada di martedì 17 ottobre intorno a 19.30 sulla strada provinciale 460 che da Quornia conduce a Ponte Canavese. A scontrarsi una monovolume Volkswagen Charan, un camion di veicotracker da cava che traenava una piccola draga. L'impatto è stato molto violento, tanto che la vettura ha sfondato l'avantreno sinistro del camion e il motore dell'auto si è staccato prima di fermare la sua corsa contro un moretto di delimitazione stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivallolo Canavese Ivrea, le ambulanze della croce rossa di Castellamonte e della croce blu di Ivrea e i carabinieri di Pornier. Inutili purtroppo i tentativi di salvare la vita al conducente della vettura, il lesero autista del camion. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico veicolare da frazione salta alla rotonda di Voira, accertamente in corso sul sinistro.